Salve a tutti i watchighebari, benvenuti nella mia personale top 7 cartoni matti prefidi della Nickelodeon Vi dico subito che mi piace molto questa casa di produzione ed animazione Solo che su ultimi progetti i cartoni non sono proprio così tanto interessanti Vabbè Numero 7, i due fantagenitori, The Fairly Oddparents Tan 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 Questo cartone sicuramente lo conoscete perché è super famoso Uno dei migliori in Nickelodeon e parla di Timmy Turner Un bambino di 10 anni e forse anche di più Che ha due fantagenitori Cosmo e Wanda che hanno delle banchette magiche e possono esaudire ogni desiderio di Timmy Turner Timmy Turner vuole un bazooka? Va benissimo Timmy Turner vuole conquistare il mondo? Eh forse Timmy Turner vuole esaudire il problema e risolvere la questione del covid? No Timmy Turner fa spesso dei desideri strani E in molti episodi diciamo in tutti quanti Timmy, Cosmo e Wanda devono risolvere i problemi del desiderio di Timmy Ah che gran combina guai vero? Un cartone divertente, bello, originale, visto mille volte Peccato che è durato fin troppo e la decima stagione è meglio non parlarne Già, oh mio dio Numero 6 A casa dell'Houd, dell'Houd House, uno dei più recenti cartoni di Nickelodeon E devo dire che mi piace Mi piace E' proprio fatto bene e originale Parla di Lincoln Loud, un bambino con i capelli bianchi che adora giocare ai videogiochi e leggere i fumetti con il suo amico Clyde Ma lui abita in una casa con 10 sorelle ed è sempre un enorme casino Cioè quella che adora tanto sporcarsi La giocarellona, quello che fa il rock'n'roll La vanitosa, la stupida, la scherz... Cioè tutto bellissimo Dell'Houd House è un cartone fantastico Se non l'avete mai visto tranquilli trovate moltissime clip italiane su YouTube Oppure se avete anche Amazon Prime potete guardarlo Non ne ho idea Proprio mi piace Mi piace Spero tanto che in futuro Nickelodeon farà dei cartoni matti belli Proprio come a casa dell'Houd Perché questo merita tantissimo Numero Q5 I Pinguini di Madagascar La serie spin-off di Madagascar Eh ragazzi, questa è veramente bella Cioè il cartone è già fantastico soprattutto per la sigla che è mitica Mi piace molto perché i pinguini Madagascar sono proprio divertenti Skipper, Rico, Kowalski, Soldato Fantastici Anche il personaggio di Marlene La Lontra mi piace molto E sì, Marlene ama Skipper Poi anche Regiulian Un personaggio così simpatico e strano, vanitoso Che proprio mi piace Mortino Morisse Il fantastico cattivo Torbolo Hall Tutto quanto di questo cartone è perfetto Ho visto tantissimi special Una serie che ho adorato tantissimo Visto molte volte in televisione Mi piace E soprattutto io adoro Il film dei Pinguini di Madagascar Veramente stu-pe-do Numero 4 The Ren e Stimpy Show Allora Chi è che conosce questi due personaggi? Beh, devo dire che sono molto strani Gli episodi di questo cartone sono qualcosa di schifosamente bello Vomitevolmente meraviglioso Stranamente epico Sul serio I due personaggi litigano Si fanno del male Sono sempre in pericolo Ren Che dice spesso la parola idiota Bullizza Stimpy Stimpy che è uno stupido Fanno giro degli episodi Su come strapparsi i denti Come vomitare bene Un cartone adatto Tutti quanti bambini Hanno fatto pure la versione adulta Ren e Stimpy Veramente Bello, bello, bello Mi piace molto L'ho visto in inglese Perché in italiano non esiste E io ho fatto un doppiaggio su Ren e Stimpy Per chi non lo sa Ah, è una cosa Brutti idioti Yeah Numero 3 Teenage Mutant Ninja Turtles E secondo me questo è il miglior cartomato Delle tartarughe ninja Davvero è fatto benissimo È durato in tutto 5 stagioni Se non erro Proprio mi piace la storia Leonardo, Raffaello, Michelangelo Donatello, April Che scoprono che La città è invasta da Dei Krang Poi personaggi che avevano pure mutati Fishface Dog Pound Shredder Me lo ricordo Teenage Mutant Ninja Turtles Lo vedevo tutte le volte su Super Al sabato e la domenica Non perdevo mai nessun episodio È fantastico Solo che Da partire dalla quinta stagione È diventato un po' troppo strano Diciamo che Non mi è piaciuto il fatto Che sono andati nello spazio Ma questo è un cartone stupendo Per notazione Una sigla fantastica E dura tantissimo Non l'avete mai visto Guardatelo Superiore di Granunga A nuovo tartarughe ninja Ed è vero Numero 2 Che doooog Che doooog È solo quel mom del dolce Che dog Che dog Ragazzi Parla di un cane e un gatto Lo stesso corpo E loro sono fratelli Già Solo che Sono attaccati Non possono staccarsi E sono sempre in grande pericolo Dog vuole correre Cat non vuole Si fanno del male Cat un tipo Molto astuto Intelligente Pensa a denaro Dog è stupido Giocarellone È divertente Doppiata da due doppiatori fantastici Cat dog È un cartone Stupendo Originale Fatto bene Ma proprio anche Molto molto serio Due personaggi vengono Bullizzati tantissime volte Perché sono diversi Strani Ma io voglio vedere Cartonimati come questo Voglio vedere qualcosa in più Cioè ragazzi Cat dog È veramente Bello 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 Peccato che non l'ho mai Visto In lingua Italiana Che schifo Viva cat dog Numero 1 Spongebob Squarepants Il mio cartonimato preferito Del mondo Ho fatto pure la playlist De Spongebob show Ragazzi Bellissimo Io devo dire Sul serio Spongebob È un cartone Che considero Un capolavoro Con la C maiuscola È super popolare Soprattutto per I meme Le musiche remixate Le creepypasta Le animazioni C'è anche l'anime Bellissimo Hanno fatto tantissimi episodi Tantissime stagioni Molti dicono Che le ultime puntate Di Spongebob sono proprio strane Ma secondo me Alcune sono parecchio carine Un cartone Che ha fatto la storia Veramente stupefacente Mi piace I personaggi Spongebob Patrick Sandy Squid Mr. Crab Plankton Karen Gary Oh mio dio Quanti sono I film Mi sono piaciuti Tranne Fuori dall'acqua Ho fatto per una recensione Un cartone Che è Veramente Mitico Questa è la mia personale Top 7 Cartoni matti Prefidio da Nickelodeon Se avete nei commenti Iscrivete la vostra persona In classifica E noi c'è una prossima Ciao ciao Taratarantaran Taran 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 Taran